5, 4, 3, 2, 1, vai! 200 dopo cesto sinistra, 6, lunga, piena corda, per destra 6, apri sfiora piena, 150, sinistra piena sfiora, 300, chicane, entrata a destra. Fiora sinistra 5, corta diventa per bianco 3, più aggancia, subito destra 3, più lunga, apri scorri, 50, sinistra 5, corda e destra 5, apri 100, ultimo cartello destra 5, tieni, subito inversione sinistra. Subito sfiora sinistra piena, apri scorri, 100 destri, anticipa fine muro, sfiora sinistra 6, subito birri, destra 6, sfiora stai per destra 5, diventa subito anticipa 4, più cartello rovescio, apri 100 destri, inizio stradina sinistra 4, meno 30, stai, attenzione destra 3, meno in rosso sinistra 3, corda stai. Subito anticipa albero destra 6, corta, 30 destri, sinistra 4, meno apri, 150, mossi stai, cesto destra 4, meno corda gira, 4, meno corda gira, falla bene. In rosso sinistra 3, lunga chiude fine rail, in subito stai, destra 2, gira, tiene, diventa rosso più, via che poi diventa più. In sinistra 4, sfiora, e sfiora destra 6, corta, subito attenzione, sinistra 3, stringe stai, subito destra 6, corta, sfiora apri, 50 destri, secondo rosso anticipa a sinistra 4, corta stai. Piris fiora destra 6, per, allarga, cipresso, destra 3, meno chiude, scorre al bianco, 3, meno chiude, poi scorre, via, eh, quando vedi il bianco, via. Cartello rovescio destra piena, 50 destri, aspetta verde, anticipa a sinistra 4, sfiora, subito destra 4, tossata, stai destro. E albero destra 5, e inizio stradina, sinistra 4, sconnessa, in acceno destro, e attenzione, sfiora a sinistra 5, scorri, diventa in anticipa 3, rosso, e aspetta a destra 3, lunga lunga, cambia doppio albero. Via, 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 ancora, 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 ancora. Gli occhiani. Quanto? Dovremmo aver fatto 2,36. Contro? 2,39. Contro? 2,39. Contro? 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 Contro?